A Paragelato a pochi mesi dalle universiadi siamo in un cantiere, un cantiere importante perché vedrà in un certo senso la rinascita sportiva di questo centro olimpico, di questa località che sindaco con le universiadi ospiterà le gare dello sci nordico, quindi il biathlon e lo sci di fondo, ma soprattutto ripartirà sulla ribalta internazionale. Eh sì, in effetti le universiadi per noi sono una vetrina e la parte prodromica è tutto quello che accadrà dopo perché qui accadrà nel giro di qualche anno. Chi è questo che ci disturba? Evviva, abbiamo qui la nostra mascotte proprio per dimostrare che c'è una presenza delle FISU, delle universiadi, anzi oggi si chiamano giochi mondiali universitari invernali, le ex universiadi per tanto per capire. E qui siamo molto contenti, come vedete questo è un cantiere, si sta lavorando perché si corre, qui ormai a gennaio ci saranno 6-700 atleti con tutte le delegazioni e quindi Paragelato tornerà finalmente alla ribalta internazionale. Lui la mascotta di lavoro ne avrà tanta in quei giorni delle universiadi allora? Penso di sì ed è anche per quello che l'hanno ben 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 coibentato perché qui fa anche freddo d'inverno per cui insomma alla fine avremo modo di vederlo all'opera per molti molti giorni. Gare di Scinordico, gare di Bietlong in questo nuovo impianto che viene preparato in questi mesi con il poligono. Un invito a venire a Paragelato però già a dicembre perché già a dicembre vedremo dei testi venti. Esatto, qui in questo momento esattamente nel luogo dove siamo stiamo allestendo il poligono di tiro che a dire il vero sarà un poligono di tiro provvisorio per questa manifestazione, poi verrà smontato e rimontato per la situazione definitiva che sarà poi il centro federale e a Paragelato a dicembre ci saranno i primi test e vente e questo significa che collauderemo la pista in tutto il senso, quindi sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista formale e anche da un punto di vista giuria eccetera eccetera. Quindi è un invito a venire. Coppa Italia, Coppa Europa, campionati italiani, quindi si è continuato a gareggiare negli ultimi 18 anni dopo le Olimpiadi e la pista è in perfette condizioni. Sì assolutamente la pista è in perfette condizioni, abbiamo appunto continuato, abbiamo dato continuità, vogliamo continuare a darne perché secondo me è Paragelato sulla pista olimpica, anche i campionati italiani assoluti, quanto senti un pellegrino che dice che le gare qui a Paragelato bisogna farle perché la pista è bella, la pista è tecnica, fa sempre piacere. Oltretutto forse abbiamo dimenticato che qui appunto adesso è una cosa provvisoria, ma poi tra due anni diventeremo centro federale. Centro federale anche estivo perché ci sarà la pista di Schirol, quindi tutto l'anno gli atleti potranno venire qua Paragelato ad allenarsi, atleti delle squadre nazionali italiane e magari non solo. Certo, sicuramente ci metteremo in moto per avvenire sicuramente la nazionale, tutti i corpi militari, a questo punto ti dirò anche l'isciclub del Piemonte e non solo perché comunque alla fine mancava questa cosa in Piemonte, siamo riusciti ad ottenere, l'abbiamo ottenuta e sicuramente appunto con la pista di Schirol speriamo di lavorare dieci mesi all'anno e dare un servizio a livello di Fisi, a livello di Schirol e a livello di Ibu, non indifferente perché siano tutti contenti e è buono.